Si vede che mi va di guardarti. Quanto ti devo per il gelato? Niente. Niente non esiste, non mi va di lasciare debiti in giro. Ma quali debiti? È solo un regalo. A te ti piace guardarti? E a me mi piace farti regalo. E perché ti incavoli? Mica ti sto offendendo. Perché si sta incazzando. Magno il tuo gelato e il santo sì. Sì, badrone. Mi ci porti alla grigliata. E perché ti ci dovrei portare lì? Guarda che tu un altro è la stessa cosa, sai? Non darti tante arie. Beh, allora vai con un altro, no? Io sono già impegnato. Tu impegnato? Ma non farmi ridere. A chi vuoi darla bene? A te. Sei pronto? Prontissimo. Grazie, come sei bella stasera, eh? Ma dici sul serio? Serissimo. Pirla. Ma che cos'ha quella? Ma che cos'ha quella?